Prende velocità il mezzo meccanico, in partenza St. John's Very Nice al comando sulla rottura di Skyhockey, velocissima dalla seconda fila Sara Queffe, veloci anche Siria Del Ronco e Stand By Me, Sara Queffe si accoda terza e Stand By Me punta in avanti. 200 in 15 e 7, il galoppo di Shine, e così St. John's Very Nice a comandare nei confronti di Sara Queffe e Stand By Me. L'allieva di Di Nardo si accoda in terza posizione, 31 il quarto iniziale, con St. John's Very Nice che procede a discreta andatura. Nei confronti di Sara Queffe e Stand By Me. In quarta posizione troviamo Sharif San con ai fianchi Siria Del Ronco, poi Sorrento Lewis. Passaggio davanti alle tribune, 47.600 con il leader che ha rifiatato. Gradatamente si avvicina Di Nardo, giro completato in 1-3-7. In Pariglia Siria Del Ronco, in Pariglia Sorrento Lewis, si migliori tutti nelle prime posizioni. Con St. John's Very Nice che prova ad allungare, ma è sollecitato. Già al completamento del chilometro percorso in 1-19-5. Vetta delle scuderie, di dentro guadagna anche Sara Queffe. Sorrento Lewis si affaccia in terza ruota, parato da Siria Del Ronco. In cerca di Varco, Sharif San, tre quarti di miglio in 1-34. Ancora leader St. John's Very Nice, Sara Queffe di dentro, ma è incisiva Siria Del Ronco a largo. Sirio Del Ronco sta attaccando St. John's Very Nice, i due apparigliati. Siria Del Ronco sta passando nei confronti di St. John's Very Nice. Siria Del Ronco passa su St. John's Very Nice. Mentre per il terzo, Sorrento Lewis è avvicinato da Sveva di Bielle, ma non battuto probabilmente. Media probabile di 1-17-3, doppio immediato di Mario Minopoli per la gioia del Tintoretto. Addirittura 10,32 euro la quota del vincente per la qualitativa Ganymede Lira Del Ronco. doppia anche in veste di trainer il team Minopoli e per quanto concerne i colori, tutto team Minopoli fino a questo momento. Bene St. John's Very Nice al secondo e Sorrento Lewis al terzo.